Come fai a non aver la curiosità? Io su ti devo guardare! Questo è bellissimo! Non stai troppo lontano, Turullino? Dovevo alzare un po' di riso, tu quanto c'hai? Eh, ora ho abbassato 500, prima avevo 1000, ora ho abbassato! Sai che non si è venuto musso? Anche se il tempo però è abbastanza brutto di un uovo, quindi sono arrivate nuvole! E infatti vedi, questo l'ho fatto un po' più longe! E' un po' meno mossa! E anche perchè stai troppo distante e appeso per l'aria! E' un po' più lontano! E' un po' più lontano! Ah, bellissimo! E' bellissimo proprio! E' un po' più lontano! E' un po' più lontano! E' un po' più lontano!